50 aziende iscritte alla Camera di Commercio di Bari e della sesta provincia potranno beneficiare di servizi di accompagnamento per la crescita. Progetti che l'ente camerale ha destinato, attraverso le sue tre aziende speciali, all'internazionalizzazione, alla formazione e allo sviluppo umano, al controllo di qualità. La Camera di Commercio investe 270 mila euro in servizi reali per aiutare ad esempio le aziende a formare il personale, sviluppare il web, il marketing internazionale o sviluppare il controllo di qualità dei prodotti. Potranno rispondere al bando pubblico tutte le aziende con almeno cinque lavoratori assunti. L'avviso scade il 30 novembre prossimo. Può anche non essere solo sostegno finanziario, può anche essere sostegno di competenze, può anche essere sostegno in qualche modo di scoperta di nuovi mercati, può anche essere sostegno relativo alla formazione perché spesso non si conosce presi dalla routine di tutti i giorni. Quindi è un progetto che vuole in qualche modo entrare nelle aziende e cercare di aiutarli a 360 gradi. Insieme per crescere si chiama proprio così, l'obiettivo è quello di sostenere le imprese in questo periodo di congiuntura economica. Sostenere come? Dando la possibilità di avere in azienda un esperto che possa consigliare l'azienda in un percorso migliore per passare questo impasso economico. Le aziende beneficiari dei servizi dovranno sostenere un costo di 750 euro.